Non posso capire come mai non ci è stato concesso il calcio di rigore. L'unica spiegazione è che questa decisione sia il risultato di una campagna contro di noi. Per esempio, Allardyce, così come altri manager prima di lui, hanno dato dei simulatori ai nostri giocatori. La verità è che qui l'arbitro invece del penalty ha monito Fabregas. La stessa cosa è successa alla prima giornata con il Burnley, quando l'arbitro ha dato il giallo a Diego Costa.